3, 2, 1 Buonasera, buona giornata, siamo con il professor Alberto Liverio uno scienziato, un neuroscienziato, uno psicobiologo che ho conosciuto di persona l'anno scorso, era poco più di un anno fa in Università Bocconi dove stavo tenendo delle lezioni di neuroscienze e quindi parleremo un po' di diversi argomenti che riguardano la performance la capacità di apprendimento ho visto sul suo profilo, per preparare l'intervista ho iniziato a capire a leggere un po' di sue pubblicazioni, quelle un po' più divulgative anche quelle un po' più tecniche ho visto che lei però ha lavorato negli Stati Uniti, in California alla fine degli anni 60 questa è una cosa di cui sono molto invidioso perché la Los Angeles di allora era molto piacevole la California era un po' diversa, insomma erano gli anni vicini al 68 quindi c'erano grandi fermenti anche studenteschi ed è lì che ha iniziato a studiare le sostanze psicoattive la capacità di influenzare l'apprendimento, la percezione cioè immagino che la California di quel periodo fosse come dire, fosse particolarmente sensibile a quel tipo di narrativa le sostanze psicoattive senza dubbio la mescalina e l'LSD erano abbastanza diffuse purtroppo perché spesso lasciano tracce abbastanza serie insomma, soprattutto l'LSD e manca la mescalina assolutamente lei, allora, in questi ultimi dieci anni c'è stato un aumento esponenziale della narrativa proprio neuroscienze nel senso sono diventate molto mainstream quindi da questo punto di vista lei è un eroe, un esperto di una disciplina diciamo mainstream in questo momento secondo lei a cosa è dovuto questa cosa? cioè dalle scoperte che sono state fatte a livello proprio di ricerca cioè con mezzi che prima non erano disponibili o? ma tanti motivi anzitutto le neuroscienze hanno fatto dei grandi progressi perché in gran parte questo è stato legato alla disponibilità di tecniche se io penso quando era l'inizio della mia carriera di ricerca insomma non c'era molto si poteva fare l'elettroencefalografia un po' misurare la circolazione cerebrale ma tutto diciamo era indietro compresi i dati della biochimica poi la capacità di dosare mediatori di visualizzare la funzione cerebrale in diretta e così via hanno consentito insomma di comprendere tanti aspetti dalla memoria appunto all'emozione e così via questo è un aspetto l'altro è che probabilmente molte discipline cercano spesso una come dire delle radici più robuste io mi ricordo la sociobiologia ecco è un esempio ad un certo punto i sociologi si sono in gran parte convertiti a queste dinamiche evolutive la sociobiologia appunto del comportamento e così direi un po' anche la psicologia che naturalmente resta una disciplina autonoma ma che per molti aspetti si appoggia anche a delle conoscenze neuroscientifiche per forza di cose quando si hanno dei dati scientifici si riesce a costruire dei modelli più robusti insomma nel senso che altrimenti diventano delle ipotesi magari che poi vengono confermate che però poi magari vengono anche disattese penso a come dire c'era tutto un movimento di pensiero basato su credo su su modelli degli anni 50 gli anni 60 per cui la mente domina il corpo segue nel senso c'è questa questa cosa per cui la mente cioè il corpo è ancillare alla mente in realtà dal punto di vista dell'apprendimento della della capacità di di percepire il mondo di muoversi nel mondo con abilità è stato disattesa questa cosa per cui la percezione e muoversi nel mondo e acquisire dati dipende proprio anche dalla capacità di esplorarlo anche dal punto di vista dell'apprendimento sì certo è una bellissima infanzia questo insomma sempre proprio dai direi dai primi giorni di vita quando man mano la percezione sia pure a tentoni comincia a dare ad un lattante un'immagine del mondo e poi quando acquisisce la capacità di toccare manipolare e così via e questo gli dà degli indizi che sono importanti insomma si basano sulla concretezza su ciò che è a portata di mano su ciò che può essere tenuto afferrato modificato e così via io sono cresciuto in un ambiente salesiano e ho visto che lei insegna anche in una scuola salesiana in un'università salesiana mi sono documentato perché e ho avuto una madre che ha scritto una tesi su Maria Montessori quindi l'argomento l'argomento apprendimento mi è in qualche modo caro lei ha scritto tanto a riguardo erano dei precursori nel senso cioè non conoscevano le neuroscienze ma avevano capito delle cose su come si si educano i fanciulli su come si 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 permette alle persone di apprendere meglio o no senz'altro cioè ci sono sempre stati dei movimenti che privilegiavano aspetti concreti che comprendevano quanto fosse importante il riscontro diretto l'esplorazione la acquisire fiducia nelle proprie capacità che non è una cosa secondaria insomma l'idea che uno può modificare la realtà da piccolo in un modo e anche da grande in un altro insomma e questo ha le sue basi appunto in un'infanzia in cui si è liberi di esplorare nell'ambito di alcune regole si acquisiscono appunto aspetti importanti che riguardano percezione motricità comprensione delle caratteristiche dell'ambiente in cui si vive e così via la Montessori ha in qualche modo aperto questa strada insieme ad altri penso alla Picler in Ungheria e così via ma poi in seguito le neuroscienze hanno indicato che molti di questi aspetti avevano un riscontro obiettivo e secondo lei perché noi veniamo siamo cresciuti in una scuola fondamentalmente basata su un modello prussiano nel senso a meno che non abbiamo fatto una scuola steineriana o una scuola o una scuola salesiana o appunto educati con metodo Montessori la scuola risale alla Prussia quindi dove dovevano costruire milioni di soldati molto inquadrati molto normalizzati servivano persone da mandare in guerra un esercito di persone fungibili in qualche modo cioè togline uno mettine un altro poi a 25 anni a 24 anni a 23 anni quando ci si laurea si entra nel mondo del lavoro e viene richiesta la creatività il problem solving la creatività non lo trovo non lo trovo un paradosso nel senso cosa ne pensa cioè è un paradosso non so se è d'accordo però in parte sì perché voglio dire questa scolarizzazione di massa che c'è stata verso la fine dell'ottocento quando molti paesi Italia compresa avevano dei livelli di analfabetismo paurosi insomma ha richiesto di fare una scuola tipo un po' una fabbrica insomma cioè mettere i ragazzi lì ad imparare a leggere scrivere eseguire dei compiti e così via certo questo traccione è stato un po' compulsivo nel senso che probabilmente non c'era spazio sufficienza per comprendere le differenze tra gli individui le propensioni di un individuo in questo le città i salesiani i salesiani hanno avuto sempre una tendenza a relazionarsi con l'allievo e a comprendere quali erano le sue capacità i suoi desideri e così via naturalmente questo lo fanno anche in tanti insegnanti ancora oggi assolutamente però certo c'è un salto di qualità quando uno è solo e ci si aspetta che affronti la realtà in modo individuale creativo come lei diceva insomma con le proprie forze e senza supporto di un sistema come quello scolastico e anche la capacità appunto dopo aver studiato 10-15 anni in maniera magari non è più così però a memoria proprio venire valutati su delle skill che non sono poi quelle che appunto che non educano la creatività non in maniera costante diciamo non in maniera continua e poi trovarsi nel mondo del lavoro e venire selezionati per dosi di creatività nonostante si sia stati educati in questo modo glielo chiedo perché appunto lei ha scritto tanti libri sull'apprendimento anche sulla parte inconscia del cervello lei specifica chiaramente che per inconscia non intendiamo quello freudiano insomma non stiamo parlando di quella cosa lì ma di processi di cui non ci rendiamo conto è molto interessante mi sono sempre chiesto come fare in modo di entrare più in contatto con questa parte diciamo di come funzioniamo cioè possiamo essere osservatori e allo stesso tempo amplificarla in qualche modo renderla più facile so che lei poi è uno studioso magari come dire che studia fenomeni non non si occupa direttamente forse di quello però sono molto interessato a sapere cosa cosa ne pensi ma penso che in effetti una buona parte dell'apprendimento è come si dice con un termine un po' tecnico tacito nel senso che è implicito insomma non viene esteriorizzata la prassi che viene messa in atto per modificare la realtà per affrontare un problema e così via e sin da piccoli questa forma di apprendimento tacito passa attraverso l'osservazione la emulazione dei propri pari dei compagni dei bambini degli adulti e così via questo è un meccanismo potente insomma che nel bene o nel male ci orienta senza quasi che ce ne rendiamo conto perché le regole di una scuola come dire tradizionale sono una cosa quelle invece che sono tacite che passano attraverso anche forme di inconscio non non freudiano ma insomma assolutamente cerebrale di ciò che non viene esplicitato di ciò che comporta delle strategie procedurali cioè all'acquisire una serie di abilità che si acquisiscono con l'uso con la ripetizione con il riscontro obiettivo penso e mi ricordo c'è un gruppo in Svezia che tra l'altro fa capo all'Odin Teatre al Teatro di Stoccolma e loro sono molto attenti a queste forme di apprendimento tacito e come esempio dicono ma nessun trattato può insegnare a Messo Cristina ancora maestro Dascia diciamo ad intagliare legname per costruire una barca è vero lo si acquisisce con l'esperienza rendendosi conto delle difficoltà dei nodi del legno della direzione della fibra e così via c'è bisogno di un'esperienza e soprattutto del fare ecco questo è un aspetto importante che spesso nella scuola è un po' sottaciuto insomma questa idea che bisogna fare per apprezzare molti aspetti della realtà la teoria è un conto la pratica è un'altra sì soprattutto quest'idea che anche quando ci sia un'esperienza è staccata dalla teoria cioè nel senso questa è la teoria e questa è la pratica in realtà anche quando viene fatta l'esperienza se viene tenuta come dire come separata è un po' un problema spesso si simula nel senso si simula ad esempio per tante professioni ci sono dei simulatori i simulatori di volo per esempio per i piloti e così via quella è una forma di apprendimento iniziale e poi quando si trova in aria ci si rende però in questo caso è necessario professore perché io preferirei volare su un aereo in cui il pilota si è ampiamente allenato sul simulatore non che faccia pratica con me poi ovviamente fatto anche la risposta emotiva di stare su un aereo che è vero che c'è un rischio la percezione sì ma più semplicemente è come apprendere la teoria della scuola guida e poi salire in macchina e guidare e doversi destreggiare tra tutte le come dire cose improvvise che succedono nel traffico ma infatti in tutte le culture da quelle più antiche da quelle proprio degli aborigeni poi ci sono per gli adolescenti quindi per i giovani uomini dei riti di passaggio veri che che non sono una simulazione cioè che non sono sei al cioè che se sbagli muori davvero nel senso e quella cosa lì secondo me è un passaggio è un passaggio importante proprio per come dire per l'apprendimento cioè non puoi mettere un piede non puoi fare un passo sbagliato nel senso perché se no davvero c'è un passaggio importante dal punto di vista della della presa di coscienza insomma appunto dell'apprendimento anche di di quello che succede e noi non so mi ecco noi viviamo in un mondo con tantissimi stimoli stimoli anche sensoriali voglio dire questo il telefono migliaia di mail informazioni anche solo le notizie da molteplici canali e così via da un punto di vista biologico siamo preparati per questo tipo di di stimolazione cioè il nostro cervello è più o meno lo stesso da non so 40 mila anni 50 mila anni non lo so dico un numero più o meno un aspetto comune con tutti è quello di essere curiosi rispetto al mondo in genere tutte le persone quasi tutte le persone sin da piccoli manifestano una curiosità e vogliono andare a vedere che cosa c'è dietro diciamo alcune realtà poi si è avidi di stimoli la monotonia in qualche modo annoia insomma quindi uno cerca di variare gli aspetti della realtà dagli aspetti iniziali quelli di un bambino piccolo che gattonando cerca di vedere cosa c'è dietro la porta a quello di un adulto che fa avanti e indietro per il corso della sua cittadina sperando di trovare qualche qualcuno con cui e poi naturalmente a livello più elevato insomma questa curiosità è alla base della creatività e del raggiungimento di innovazioni perché se non fossimo curiosi ecco solo la teoria non sarebbe sufficiente ma siamo cioè il nostro hardware la domanda è pronto per è adatto per ricevere così tanti stimoli in maniera così 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 forte così veloce così ma dipende dall'età e dipende dall'uso che si fanno le tecnologie perché precocemente si resta attratti da tutto e vedo i bambini i ragazzini si disperdono soprattutto in questo periodo in cui le scuole sono stati chiusi due mesi basate sull'accesso al computer le lezioni online e così via però indipendentemente dal valore educativo della didattica online alla fine questi ragazzini questi ragazzi fanno uno slalom tra le varie offerte che dà la rete e quindi sono spesso distratti allora un adulto in genere o perché ha delle pressioni o perché ormai è abituato o perché sa quello che cerca è in genere meno soggetto a questa distrazione sa che cosa cercare che non è sempre facile insomma perché cercare nella rete come ben sappiamo richiede delle competenze richiede di conoscere un settore non cadere nelle tante trappole nelle tante vaghezze che ci sono in rete però certo il nostro cervello era abituato sino a non molto tempo fa ad un mondo che procedeva più lentamente a minor numero di stimoli e oggi si deve abituare e in qualche modo io penso quasi ogni tanto a fare delle periodi di lentezza disintossicato un reset penso anche solo al fatto di quante decisioni quante micro decisioni tu hai dato al suo libro c'è un capitolo sulle decisioni magari parla di decisioni un po' più grandi però a quante micro decisioni siamo sottoposti ogni giorno cioè dobbiamo letteralmente prendere ogni giorno cioè leggo questa mail adesso la leggo più tardi gli rispondo o gli rispondo domani vado in quel ristorante o in quell'altro ristorante cioè sono piccole cose che impegnano nel senso 50 anni fa si mangiava a casa non dovevo pensare dove andare a pranzo certo più aumenta l'offerta più diciamo gli stimoli sono competitivi più anche il livello di indecisione può diventare il livello di indecisione tra le tante mail che riceviamo a parte quelle che finiscono nel garbage e così via a volte ci sono delle priorità però le priorità sono qualche cosa che è fortemente individuale perché magari c'è una priorità del lavoro che passa in seconda linea rispetto al piacere che può dare una notizia che proviene da un amico insomma dipende quante forti sono le pressioni e le necessità insomma di affrontare un problema c'è anche tanta manipolazione per cui chi emette contenuti sa anche come manipolare proprio il sistema per fare in modo da fare un come è che l'ho letto in un suo libro di alcuni pubblicitari che in maniera un po' blatant negli anni 90 si definivano neurochirurghi del linguaggio esatto sì sì ebbè la diciamo la pubblicità è nata in gran parte col comportamentismo Watson che è stato il fondatore del comportamentismo insieme a Skinner insomma era un abilissimo pubblicitario e gran parte delle campagne che lui ha lanciato hanno avuto un gran successo per esempio quello di allargare il fumo a tutto il mondo femminile che ai tempi di Watson invece era un mondo che non fumava e da allora in tutti i film per esempio gli attori se vediamo i film degli anni 40 50 anche 60 fumano di continuo ci colpisce insomma perché oggi è molto più raro vedere qualcuno che fuma al cinema o in uno sceneggiato non si ria e questo è stato una delle sue indicazioni fateli fumare di continuo perché la gente imita ma che l'uso del linguaggio ricordo da piccolo una pubblicità dell'Alfa credo dell'Alfa Romeo e qui era la tua seconda Alfa sarà quella che preferirai c'era questo uso di presupposizioni implicite per come dire manipolare e quando siamo disattenti quando magari siamo più un po' più stressati un po' meno consapevoli di quello che facciamo queste cose hanno un potente un effetto nel senso il linguaggio può essere questo processo di fidelizzazione anche come si dice nel linguaggio pubblicitario nel senso che se sin da piccoli assistiamo a delle pubblicità o vediamo a promuovere un qualche cosa delle bibite qualsiasi cosa che insomma fanno parte del nostro mondo uno resta un po' attaccato a quel mondo è come le banche d'altronde cercano di fidelizzare i loro clienti cercando di aprire quando sono dei ragazzini dei libretti di risparmio perché pensano che così più facilmente una volta si usava tanto quando ero piccolo mi ricordo che mio padre mi portò in banca a portare i soldini in una cassettina c'era anche proprio l'iconografia i salvatanai di metallo i salvatanai di metallo ma qual è stata la sua in questi tanti anni la sua vera passione nelle neuroscienze cioè la sua ricerca e la sua anche attività di insegnamento perché lei è passato attraverso la memoria sì in gran parte la memoria perché insomma come Piaget diceva senza memoria non c'è intelligenza però l'intelligenza non è la memoria è una specie di bisticcio che però appartiene alla realtà cioè se noi non facessimo tesoro di tutti gli stimoli che facciamo senza a volte accedere perché ci possono essere delle persone che hanno una memoria devastante ma non necessariamente essere intelligenti sono intelligenti insomma però ecco la memoria ci accompagna per tutta la vita fa parte dei nostri ricordi fa parte della costruzione della cosiddetta autobiografia il modo in cui ci presentiamo al mondo e a noi stessi io sono quello che ha fatto questo e quest'altro autobiografie che variano nel tempo perché quando abbiamo vent'anni ecco possiamo narrare una storia più breve dando più attenzione ad alcune cose quando arriviamo a 40 forse censuriamo qualche passo falso che abbiamo compiuto e via dicendo insomma la memoria si avviene in realtà viene riscritta continuamente da noi stessi cioè una memoria spesso ricostruita in qualche modo per qualche particolare no? sì perché la memoria non è uno stampo immutabile viene ricostituita e questo è una delle ricchezze della memoria perché se fossimo legati a delle ricordi e degli apprendimenti specifici non saremo in grado di essere plastici cioè di cambiare il nostro modo per esempio di leggere io penso che per l'età che ho ho imparato a scrivere sulla macchina da scrivere poi sono venute delle macchine a scrivere elettriche con una testina rotante poi ad un certo punto la testiera è stata uguale ma il così il monitor è cambiato diciamo è cambiato tutto ed è cambiata anche la logica attraverso cui noi utilizziamo il computer attuale cambierà la logica in futuro probabilmente c'è una cosa stranissima che ho sempre pensato della memoria sa che c'è youtube che c'è questo canale dove si carica dei film youtube in realtà esiste dal 2005 2006 esiste dal 2006 ma io non riesco a pensare non riesco a ricordarmi di un tempo in cui non ci fosse youtube e mi sono sempre chiesto perché questa cosa non cavolo sono 10 anni 15 anni fa alla fine non è tantissimo sono arrivato alla conclusione che dipende dal fatto che su youtube si trovano anche film spezzoni di film molto vecchi non lo so verdone di quando ero un bambino un film western in bianco e nero eccetera e riguardarli lì è come se per me avesse riscritto questa come se avesse fuso queste due quindi io se penso di vedere un film di verdone che ho visto in realtà a 15 anni a 14 anni me lo visualizzo su youtube è un fenomeno molto strano dove realtà e fantasia si 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 uniscono no la memoria davvero può essere alterata è un viso è un mondo in cui man mano forse ogni tanto si crea una qualche confusione nel senso che man mano che procediamo avanti con gli anni non siamo proprio sicuri al 100% che quel ricordo sia effettivamente nostro che ce l'abbiano raccontato i genitori che l'abbiamo visto al cinema c'è questa area così un po' fluo in cui la memoria può zoppicare e come si sviluppa la memoria nel senso come si si rafforza come si si potenza come ci si lavora se uno volesse da un punto di vista ovvio non del biologo ma della persona che poi lo mette in pratica cioè una dote assolutamente genetica è qualcosa di magari è una domanda banale però immagino che lei abbia per niente perché è quello su cui si capigliano tuttora molti ricercatori però no in parte ha degli aspetti diciamo così genetici fortemente individuali perché ci sono persone con una memoria devastante che ricordano tutto ricordano la loro carriera scolastica ricordano a memoria alcune delle poesie che hanno studiato e persone che invece da questo punto di vista non dico che sono una frana però insomma prestano meno attenzione ad alcune cose forse perché non sono motivate anche perché quel periodo non si è esarito la loro diciamo gli anni della scuola e dell'università sono stati così centrali che uno li ricorda con più piacere rispetto a persone che poi hanno fatto altro ecco questo è un aspetto e l'altro aspetto è che per sviluppare la memoria bisogna prestare attenzione se si è disattenti è un po' più difficile memorizzare quindi quando sin da piccoli prestare attenzione ed essere motivati è il segreto per cui un bambino o un ragazzino ricorda tutto della squadra del cuore mettiamo tutte le classifiche tutti i giocatori eccetera poi la mamma o la maestra o l'insegnante si lamenta che non impara non ha memoria e così via evidentemente non presta attenzione non è motivato per prestare attenzione ci sono delle strategie insomma che facilitano questo primo passo della memoria sì io ho sempre pensato pur non essendo come dire non avendo basi come dire di conoscenza biologica che i bambini abbiano una grandissima attenzione naturale verso le cose cioè io ricordo la mia cuginetta che per ore osservava delle formichine che camminavano lungo il portico della casa in campagna per ore le osservava sapeva dirti tutto come quella che portava quella che parlava con l'altra quindi veramente una grande capacità di attenzione a un certo punto il bambino viene preso e viene messo a occuparsi di cose di cui non gli non importa niente fondamentalmente e quindi si dice che è un bambino disattento molto spesso quando si dice è un bambino che ha poca attenzione perché in realtà non siamo stati bravi a coinvolgerlo a motivarlo no tutto ciò in cui il bambino è coinvolto ritorniamo diciamo agli aspetti montessoriani e così via in qualche modo facilita il suo apprendimento perché lui che ha fatto quell'esperienza che ha modificato la realtà insomma è qualche cosa in cui lui ha un ruolo centrale tutto ciò che invece lo vede con un ruolo non centrale chiaramente ma richiede già una mente più adulta insomma però sin da piccoli questo aspetto dell'esperienza è fondamentale e in questo la scuola italiana per tradizione è scarsamente attenta all'esperienza in prima persona all'apprendimento diretto allo sviluppare piccoli esperimenti piccole tecnologie e così via anche senza bisogno di grande strutture scolastiche io vedo che in Inghilterra in cui l'empirismo è probabilmente più diffuso e invece c'è come dire quello che loro chiamano gli esperimenti da sottoscala cioè piccoli banchi messi anche in situazioni così molto episodiche in cui i ragazzini costruiscono delle cose e rivaleggiano un po' nel fare qualcosa e nel vedere chi è riuscito meglio penso a come poi noi spesso ci lamentiamo della scarsa imprenditorialità rispetto agli americani per esempio agli inglesi al di là di condizioni fiscali legislative eccetera però noi abbiamo questa narrativa di Steve Jobs col garage che costruisce o anche Hewlett Packard tutta una serie di inventori e adesso lei ha parlato degli esperimenti del sottoscala il garage dove costruiscono il primo Apple 2 è la logica continuazione di questa cosa non possiamo aspettarci gli inventori del garage se non ci sono stati gli esperimenti del sottoscala quello è il primo passo poi bisogna che trovino anche delle orecchie attente faccio perdire delle orecchie attente i finanziatori dei finanziatori delle persone che sono propense a comprendere che i ragazzi e i giovani a volte hanno delle idee non sempre non necessariamente sempre però spesso hanno delle idee originali perché affrontano la realtà con un'ottica nuova insomma quindi se trovano chi finanzia chi dà credito chi dice proviamo e così via ecco questo è un aspetto direi importante e questa tradizione empirica spesso va di padre in figlio insomma secondo me il garage è una grande istituzione perché lì che un ragazzo manipola fa sfascia smonta e acquisisce una diciamo una conoscenza diretta e immediata ma quel tipo di cultura credo sia ma non solo imprenditori penso anche a Feynman che era un grandissimo fisico veramente no tutta l'adolescenza l'infanzia farcita di esperimenti noi siamo poco sperimentatori come si cambia questa cosa nella scuola nell'educazione come si so che non può avere una risposta però da dove si parte ma anzitutto nei primi anni ma molti insegnanti ora lo stanno facendo metterli a contatto con la natura con l'osservazione naturale comprendere vedere che cosa cambia nel tempo come si sviluppa una pianta come si ciba un animale un animaletto e così via questa l'osservazione è estremamente importante ed essere anche attenti alle risposte dei bambini o dei ragazzini insomma comprendere che a volte possono essere delle risposte a pera diciamo e a volte possono essere delle risposte sensate quindi partendo da quello è costruire un percorso logico noi abbiamo una forte cultura secondo me del giusto e dello sbagliato cioè dell'errore l'attenzione sull'errore quindi nella scuola italiana magari c'è molta più attenzione cioè ovviamente anche il risultato finale però l'attenzione è su quello che hai sbagliato a scuola si contano gli errori si contavano non so quanti errori hai fatto ne ho fatti tre ah meglio tre di cinque si contavano gli errori non si conta il pezzo buono nel senso l'attenzione è sempre sul pezzo che non va o prevalentemente sul pezzo che non va come dire se ho un bambino che ha nove in greco o nove in matematica e quattro in greco gli viene detto lascia stare la matematica concentrati sul pezzo che va male perché noi ricerchiamo una media magari è il più grande matematico che è una scelta politica nel senso è una scelta come dire voglio delle persone medie che siano medie un po' in tutto e di nuovo poi nel mondo del lavoro si cerca l'eccellenza e questo qui è un po' paradossale poi è ovvio che servono le persone che sanno fare un po' di tutto però è paradossale poi voglio dire in molte discipline il modo con cui si risolve un problema è estremamente variabile e individuale l'esempio più chiaro è la matematica insomma si può risolvere un teorema in vari modi e poi ci sono chi ha un ricordo di Einstein insomma visualizza i numeri li tratta come entità concrete chi invece è più portato per l'astrazione chi è un po' un contestatore di fronte ad una risposta a senso unico ne trova un'altra tutti questi sono aspetti importanti e penso che il didatta insomma il docente dovrebbe in qualche modo tenere conto di questa individualità e riconoscerla perché ognuno di noi vuole avere una sua individualità vuole essere riconosciuto come colui che diciamo bravo in ginnastica parla molto è socievole ha una sua capacità come diceva di risolvere una frase in greco e così via e questo va in qualche modo apprezzato perché allora uno si rende conto che viene apprezzato per una sua capacità piuttosto che per una capacità generale che spesso manca a tutti insomma Leonardo di avinci di oggi insomma è difficile è un po' complicato e sarebbe anche complicato gestirlo immagino che noi abbiamo delle richieste delle pressioni esterne altissime io penso ai ragazzi a cui teniamo dei corsi in università nelle rispettive discipline nelle business school sono sottoposti a delle delle pressioni pazzesche nel senso innanzitutto c'è un investimento dei genitori della famiglia c'è una competizione pazzesca c'è questa questa necessità di 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 accelere c'è una competizione molto alta e mi chiedo se questo cioè questo stress e questa capacità di gestire lo stress quanto poi impatti sulle sulle performance sulla capacità di anche di essere delle persone realizzate da adulte nel senso delle persone piene in qualche modo con una vita con una vita piena per esempio c'è tutta una narrativa negli ultimi anni sulle sostanze sa che ci sono nelle università sui non so come si chiama nootropici forse o comunque nootropici cognitive boosters cognitive boosters ok potenziatori cognitivi che mi ha sempre fatto sorridere nel senso ovviamente le chiedo un'idea ma nel senso ovviamente non di giudizio positivo o negativo ma c'è una narrativa proprio c'è stato qualche anno fa un film che si chiamava credo si chiamasse limitless non so se si era visto in cui c'era questa questa sostanza questa molecola inesistente ovviamente che era veramente un booster di tutte le capacità cognitive quindi anche a livello cinematografico questa cosa lei che ne pensa ma non ripeto non giusto o sbagliato ma di questa negli Stati Uniti tra gli studenti sono abbastanza diffusi tant'è che il problema è stato affrontato anche dal punto di vista diciamo etico di doping se abbiamo il 15-20% dei ragazzi prende questi potenziatori cognitivi stanno facendo qualche cosa di forma rispetto agli altri gli altri sono svantaggiati però a parte questo ecco lì si può ordinare online anche dei farmaci che qui sarebbero soggetti a ricerca non diamo dei consigli però ai nostri lettori perché se no non li trovo per niente la diciamo il potenziamento è abbastanza blando ecco e più che altro secondo me dà fiducia di avere un ancora a cui aggrapparsi un effetto placebo più perché se ne avessimo uno veramente forte ed efficiente beh penso che sarebbe estremamente diffuso e invece questo per il momento non avviene quindi basandosi proprio sui feedback reali sui dati reali in realtà anche nel mondo del business c'è tutta una narrativa adesso che si può trovare anche in serie e televisione ma che rispecchiano molto il mondo di booster di creatività anche penso a molecole come la dimetiltriptamina del DMT delle sostanze come dire che amplificano la percezione che amplificano la stessa mescalina ci sono imprenditori businessmen inventori soprattutto negli Stati Uniti che vanno a farsi ritiri di queste cose per per avere l'idea geniale no? per avere e a volte succede cioè c'è la narrativa proprio della pillola magica no? ma credo che sia un po' insida nell'essere umano no? prendo prendo questa cosa qui che era un fatto come dire fare una una sorta di cesura con il mondo in cui si è l'imprenditore il manager e così via ad un certo punto esce dal contesto del forzato dell'ambiente di lavoro e da un'immersione o farmacologica oppure di altro tipo non so quelli che vanno nei conventi quelli che fanno lo yoga e così via in qualche modo spezzano una routine e questo in qualche modo può dargli sicurezza anche può far calare delle tensioni delle nevrosi che indubbiamente si verificano spesso negli ambienti di lavoro di tipo compulsivo c'è qualcosa che che un genitore che educa un figlio un figlio piccolo un bambino e che vuole come dire educarlo bene da un punto di vista cognitivo dovrebbe sempre fare al di là delle cose di fargli fare esperienze di cioè una una cosa come dire magari non immediata cioè non non così di buonsenso che però si è protratta negli anni o come dire apre degli spazi che che altrimenti sarebbero più difficilmente accessibili ma sì anzitutto non immedesimarsi nel figlio perché un bambino o una bambina o una ragazza o una ragazza sono diversi dai genitori e questo è il primo punto che bisogna riconoscere insomma non sono una nostra proiezione insomma non sono un nostro alter ego che noi vogliamo plasmare ad immagine e somiglianza di qualche cosa di teorico anche insomma io non sono riuscito in qualche cosa però mio figlio riuscirà quindi non proiettare le proprie ambizioni tutto come dicevo è senza dubbio importante perché molto spesso sono le esperienze al di fuori della carriera scolastica o dell'indirizzo prevalente che danno più idee insomma visitare che fosse fare un viaggio in un luogo in un bel luogo vedere un museo ascoltare della musica e così via sono tutte esperienze importanti che nella gioco di ricombinazione insomma della creatività possono fornire degli spunti importanti spesso quando uno torna mettiamo da un viaggio in un bel luogo e così via ha una mente più fresca in cui è meno compulsivo è meno indirizzato in maniera unidirezionale insomma unilaterale quindi può permettersi di vagare e di trovare magari delle soluzioni che normalmente non troverebbe se stesse fisso e puntualizzato in una prassi ripetitiva insomma l'apprendimento non è sempre lineare non è sempre assolutamente assolutamente no non lo è il nostro cervello non lo siamo neanche noi no il fatto è che siamo costretti ad imparare una serie di cose per la nostra tipo di professione che esercitiamo per un artigiano ugualmente importante e così via però le idee vengono anche da altri ambiti e forse spesso sono le idee migliori e anche idee non lineali nel senso che noi per descrivere un'abilità ho sempre pensato a come trasmettiamo il sapere noi impariamo o crediamo di imparare attraverso un libro però per alcune cose funziona nel senso se devo imparare una 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 non abilità non un'abilità ma un'altra degli schemi ma quando si tratta di abilità devo insegnare a nuotare a qualcuno non posso farlo attraverso il linguaggio perché il linguaggio è lineare devo mettere una parola dopo l'altra noi abbiamo noi parliamo da pochi da poco tempo rispetto a quando esistiamo nel senso il linguaggio è una cosa relativamente moderna quindi per millenni noi abbiamo pensato in maniera non lineare c'era quella teoria della doppia camera mi pare del cervello bicamerale che era particolare però insomma poteva essere qualcosa di e quindi portarli verso una una wolf form guardare la realtà globalmente un pezzo dopo l'altro può aiutare per seguire una logica unidirezionale passo passo deve essere accompagnata anche da quello che si dice un emisfero destro dare ascolto all'emozione alle percezioni a idee dissonanti e così via insomma quindi non esercitare col filtro non esagerare col filtro con la logica professore io la ringrazio tantissimo è stata un'ora molto bella per me ha ripreso ad uscire ha ripreso la vita normale assolutamente ormai insomma la situazione poi romana laziale mi pare abbastanza sotto controllo speriamo assolutamente le auguro un buon pomeriggio grazie 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 a tutti